Definitivamente le marche in una regione molto importante all'interno della nostra azienda sia dal punto di vista della produzione, della parte industriale, ma anche dal punto di vista della ricerca e sviluppo. Qua nelle Marche abbiamo il polo EMEA e globale della ricerca e sviluppo delle lavatrici e delle asciugatrici e anche dal punto di vista del supporto al quartiere generale EMEA che abbiamo a Milano. Qual è il valore di questa giornata oggi? Questa è una giornata molto importante per due motivi. Da una parte è un traguardo importantissimo in un piano industriale che comporta un tantissimo lavoro a quattro anni all'interno dell'intera regione EMEA e con un contributo molto importante dell'Italia. Un traguardo importante e uno step molto importante in un lavoro che durerà quattro anni. dall'altro punto di vista è apriamo una delle nostre fabbriche del futuro, per cui noi abbiamo preso l'opportunità di questi investimenti per riassettare il nostro asset industriale per comunque creare le fabbriche del futuro e per il futuro. E Melano è la prima fabbrica che guarda il futuro. Grazie. Grazie.